Benvenuti nel mondo degli orologi Redion. Se sei un appassionato di corse automobilistiche, probabilmente conosci il marchio di orologi belga Redion. Fondata nel 2001, l'azienda si è rapidamente fatta un nome nell'industria degli orologi di lusso grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla loro originalità. I modelli di orologi Redion sono stati ispirati dalla passione per le corse automobilistiche e dalle prestazioni dei motori ad alte prestazioni. Gli orologi Redion sono infatti caratterizzati da un design sportivo e accattivante, con numeri grandi e chiari, e una forte attenzione per i dettagli. Ogni orologio Redion è realizzato a mano in Svizzera, utilizzando solo i migliori materiali e le tecniche di produzione più avanzate. Gli orologi Redion sono dotati di movimenti svizzeri di alta qualità, come il famoso movimento automatico ETA, e sono in grado di garantire precisione e affidabilità nel tempo. La collezione di orologi Redion comprende una vasta gamma di modelli, tra cui orologi da polso, cronografi, orologi da pilota e orologi da immersione.